Anche le regioni si cercano. Gli uomini si incontrano, si frequentano quando sentono di stare bene insieme o di avere perlomeno qualcosa da dirsi. Questo processo viene avviato dall'istinto, dall'intuito, ma si solidifica solo quando interviene il raziocinio, a ratificare le ragioni di una scelta che rompe un isolamento e ne esclude altre di scelte. Non so bene quali siano i criteri di orientamento che promuovono l'alleanza tra istituzioni, regioni o stati. Ma se una convergenza tra contigui e antiterritoriali divisi da una frontiera si attua spontaneamente, allora credo di poter affermare che queste regioni non si identificano compiutamente con la nazione a cui appartengono, che permangano in esse stimoli di varia natura e residui di energia creativa da essere impiegati fuori dal contesto statale e dallo stesso ambito territoriale. In un confronto con quel che di diverso, di inesausto, permane pure nelle adiacenti zone d'oltre confine. Così scriveva Fulvio Tomizza in una pagina poi confluita in una raccolta di scritti, alle spalle di Trieste. E questo è anche quello che ha fatto il Forum Tomizza nei vent'anni appena passati e che farà negli anni a venire, costruire ponti e relazioni in una regione multiculturale. Quindi da parte mia un augurio che sia presto possibile rivedersi di persona.